omicidio fiandaca sentenza della corte d'assise di caltanissetta condannati all'ergastolo i quattro imputati due nuovi assessori a palazzo del carmine no comment di cancelleri sensor civico del comune sospeso il servizio di segnalazione online avviso pubblico per l'affidamento del servizio di gestione della pagina facebook e di addetto stampa della stagione teatrale del margherita nissa la società comunica ufficialmente di aver affidato la guida tecnica sferrazza cancelleri nuovo direttore generale condannati all'ergastolo tutti e quattro gli imputati per l'omicidio di giuseppe fiandaca ucciso a colpi di fucile il 13 febbraio 2018 nelle campagne intorno a riesi così è deciso la corte d'assise di caltanissetta al termine di una lunga camera di consiglio in linea con le richieste avanzate dal pm davide spina al termine della requisitoria il carcere a vite è stato inflitto a pino bartoli 35 anni michael stephen castorina 33 anni gaetano di martino 39 anni e giuseppe antonio santino detto lucignolo di 34 anni secondo una prima ricostruzione alla base dell'omicidio di fiandaca che all'epoca aveva 38 anni vi sarebbero dei contrasti per questioni di droga ma nel corso del dibattimento sono state esplorate anche altre piste compresa quella passionale la corte accogliendo anche le richieste dei legali di parte civile della famiglia fiandaca gli avvocati giovanni pace walter tesauro ha concesso una provisionale da 50 mila euro per i genitori la moglie e i figli della vittima e da 30 mila euro per il fratello e le sorelle oltre al risarcimento danni che verrà quantificato dal tribunale civile gli avvocati difensori vincenzo vitello adriana vella michele ambra giovanni maggio angelo asaro e ivan truppi avevano chiesto la soluzione dei loro assistiti se ne riparlerà in appello sale a 9 il numero degli assessori comunali a palazzo del carmine come un fulmine a ciel sereno rese note le nomine di ettore garozzo e ivan rando entrambi imprenditori non fa più parte della giunta luciana camizzi la notizia che si è sparsa rapidamente in città e la discussione del momento sui gruppi social che riguardano caltanissetta diversi gli attivisti del movimento 5 stelle che esprimono disappunto non condividendo in primis l'uscita di luciana camizzi che la nostra redazione ha contattato nel tardo pomeriggio ha preferito non rilasciare dichiarazioni al momento no comment anche da giancarlo cancelleri che è l'anima dei 5 stelle a caltanissetta e non solo intanto conosciamo da vicino i due nuovi componenti della giunta ettore garozzo classe 1970 si occuperà di transizione ecologica mobilità toponomastica partecipazione centro storico e quartieri a ivan rando classe 1973 bilancio partecipate risorse umane polizia municipale e sicurezza nei luoghi di lavoro come matura questa nomina matura intanto la maturazione la dovremmo chiedere al sindaco in primo luogo e a chi elaborato questa questa proposta io ti posso posso dire nient'altro di come come la ricevo ovviamente la ricevo come sicuramente un elemento di stima per quello che che faccio per questa città l'amore che dimostra la città nel promuoverla e nel cercare di non di non farla vivere alla deriva dagli altri cittadini che forse la amano un po meno quindi credo che l'area nella quale si si è si è fatta questa scelta sia questa qui da che parte sta politicamente ettore garozzo ma che il mio cuore batta a sinistra credo che sia fuori di dubbio io non ho tessere di partito da credo almeno vent'anni perché non mi interessano soprattutto le dinamiche di partito movimenti che siano assolutamente io sono orgoglioso di avere la mia testa e la mia lingua e che non non metto nel cassetto in nessuna occasione quindi io mi ritengo una persona sicuramente nelle di centro sinistra ma credo che a questo punto per governare una città e per dare il proprio contributo in città piccole come quella di casa in sette a poco ponti e lo schieramento politico perché soprattutto in questo momento di grande confusione c'è di bisogno di ritornare alla alla bc della politica fare diventare la politica servizio per la collettività e trasformare l'agire politico in servizi concreti io credo che questo sia l'unico eh passaggio poi le grandi discussioni e spesso vuote tra destra e sinistra e poco contano in questo in questa circostanza sicuramente. Di cosa si occuperà Ettore Garozzo nella giunta comunale di Palazzo del Carmine? Eh sicuramente ci sarà una mia eh attenzione particolare alle tematiche che riguardano eh il centro storico i quartieri il come eh la città antica la città moderna eh si collegano eh e soprattutto una visione verso il futuro con una rigenerazione che nel PNRR è la voce sostanziale che e che dà speranza a territori come il nostro. Quali sensazioni dopo questa nomina? Beh sicuramente il momento ancora è caldo e quindi posso soltanto dire che è un'emozione perché è una esperienza nuova per me eh se eh diciamo ho già vissuto impegni istituzionali nel tempo non mi era mai capitato di vivere una eh esperienza del genere per cui pronto a cominciare sicuramente in carico di impegni di voglia eh ritengo che ci sia di bisogno per tutti eh e non posso far altro che sperare che tutto vada come come immagino possa andare come vorrei che andassi. Come nasce questo nuovo ingresso al comune? Beh eh diciamo che il mio rapporto personale con eh Roberto Gambino nasce da lontano eh è un rapporto di conoscenza prima e di stimo reciproca eh dopo. Eh ho avuto sicuramente modo di apprezzarlo eh durante la campagna elettorale di tre anni fa eh alla quale ho eh preso parte e ho diciamo tifato per lui è un fatto noto eh che non posso che 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 ricordare con con piacere. Eh nel tempo c'è stato sempre l'opportunità di scambiare eh opinioni, di scambiare pensieri, di confrontarsi e anche di condividere. Eh una volta chiesta la mia disponibilità per le mie competenze, per il mio trascorso eh professionale ho onestamente pensato che potesse essere un'occasione eh valida per me eh e quindi non per tutti i colori quali eh ovviamente avrebbero eh condiviso questo progetto e non posso far altro che confermare insomma che eh non viene da lontanissimo, non viene da lontano eh ed è una cosa che era possibile immaginare solo e soltanto per chi eh conosce anche il modo con il quale il sindaco ha ha sempre diciamo intenzione di eh circondarsi di persone che possano con competenza svolgere il suo eh ognuno il proprio mestiere, il proprio lavoro, il proprio luogo. Quale sarà il suo primo atto? Eh conoscere? Eh non posso che innanzitutto eh conoscere. Il primo atto non sono in grado di di dirvelo perché eh onestamente eh essendo insediato da poco meno di mezza giornata devo avere il tempo eh chiaramente di poter eh conoscere davvero sia le dinamiche che 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 le persone per cui a tutti i livelli devo entrare eh nel nei meandri del dei 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 meccanismi della macchina comunale per cui non lo so. Su Sensor Civico la piattaforma segnalataci per il suo funzionamento da alcuni telespettatori su cui i cittadini possono formulare suggerimenti, segnalazioni e reclami su un mappa per il miglioramento della qualità dei servizi offerti e la vivibilità che in pratica sarebbe la versione digitale di uno sportello 2.0 tra cittadini ed ente comunale il comune sospenderà temporaneamente il servizio che sarà potenziato e riattivato entro la prossima estate come ci spiega l'assessore all'innovazione e alla digitalizzazione Giuseppe Lamenza. Il comune di Caltanissetta già nei primi mesi di insediamento lo aveva introdotto sperimentalmente per dare un servizio online di segnalazione di eventuali disservizi percepiti dalla cittadinanza dice l'assessore. L'intenzione reale dichiarata pubblicamente a suo tempo è stata quella di introdurre un metodo nuovo nella gestione della manutenzione. La maggior parte delle segnalazioni infatti ha riguardato le manutenzioni stradali e ambientali in città in grado di rendere più efficaci i percorsi di soluzione delle problematiche quotidiane al contempo di introdurre un rapporto più rapido e diretto tra uffici e cittadino. L'arrivo della pandemia meno di sei mesi dopo la sua introduzione ha inficiato l'applicabilità dei processi di lavoro già esistenti impedendo il corretto svolgimento del piano inizialmente predisposto. Il fenomeno pandemico spiega ancora l'assessore ha rivoluzionato la normale gestione di tanti servizi comunali implicando una incessante e continua revisione dei processi di lavoro per adeguarli all'imprevedibile contingenza delle dinamiche operative segnalata dei continui riadattamenti necessari a gestire le emergenze tanto da aver reso attualmente la gestione del servizio un elemento di irriducibile e aggravio della complessità dell'attività amministrativa. E conclude infine, non solo per questa ragione il Comune ritiene opportuno di sospendere temporaneamente il servizio ma anche in considerazione del fatto che in virtù dei finanziamenti ottenuti sia grazie al programma Agenda Urbana che al PNRR il servizio di segnalazione sarà rilasciato online entro il prossimo anno integrato nel più ampio progetto di gestione dei flussi informativi tra il Comune ed il suo pubblico che verrà rilasciato entro l'estate prossima. Manca poco alla riapertura al pubblico del Teatro Comunale Regina Margherita. Il Comune Nisseno ha pubblicato l'avviso per l'affidamento diretto del servizio di gestione delle pagine Facebook assessorata alla cultura turismo ed eventi comuni di Caltanissetta e Teatro Comunale Regina Margherita Caltanissetta e di addetto stampa della stagione teatrale e musicale 2022-2023 del Teatro Comunale Regina Margherita che inizierà il 28 novembre e si concluderà il prossimo 5 maggio 2023 con lo spettacolo Radici. Il servizio richiesto, secondo quanto si legge nel bando pubblico, prevede fra le altre cose la creazione di almeno 100 post, una media di tre a settimana, contenenti video, registrazioni vocali o Facebook Live. La pubblicazione media di almeno 12 video, una media di due al mese, contenenti rappresentazioni, monologhi o spettacoli teatrali al cui eventuale acquisto provvederà l'amministrazione comunale. Il soggetto interessato dovrà formulare una propria offerta a ribasso sul corrispettivo base quantificato in 4.000 euro oltre IVA e Oneri. Sono ammessi a manifestare il proprio interesse gli operatori economici in possesso dei requisiti di donetà morale e che non si trovino in ognuna delle condizioni di esclusione della partecipazione all'indagine di mercato di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 50 del 2016. In questo caso, però, ancora una volta a destare perplessità e il termine perentorio previsto dal bando entro e non oltre il quale presentare la domanda di partecipazione, le ore 10 del prossimo lunedì 14 novembre. Con l'arrivo dell'autunno riaprirà al pubblico il Teatro Comunale Regina Margherita. Il Comune di Caltanissetta ha pubblicato l'avviso per la partecipazione alla procedura di sponsorizzazione della stagione teatrale musicale 2022-2023 del Teatro Comunale Regina Margherita, che prenderà il via il prossimo 28 novembre e si concluderà il 25 maggio 2023 con lo spettacolo Radici. Le offerte saranno valutate da una commissione comunale presieduta dal dirigente e composta da due dipendenti da questi nominati e ordinate secondo il criterio del maggior finanziamento e del maggior vantaggio economico complessivo. Fin qui niente di particolarmente rilevante, se non fosse per il termine perentorio previsto dal bando, entro e non oltre il quale presentare la domanda di partecipazione, le ore 10 del prossimo lunedì 14 novembre. Soltanto quattro giorni a disposizione, quindi con in mezzo il fine settimana, per organizzare e formulare la domanda di partecipazione al Comune Nisseno, che offre, secondo quanto si legge nel bando pubblico, ad un terzo che si obbliga a fornire a titolo gratuito una predeterminata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale e o marchio in apposite e predefiniti spazi pubblicitari. Possono partecipare infine soggetti pubblici o privati, imprese individuali, associazioni, fondazioni, cittadine ed in generale chiunque in ragione della propria attività si occupa di problematiche non in conflitto con l'interesse pubblico. La Nissa comunica di avere affidato la guida tecnica della prima squadra ad Alessio Sferrazza. Una decisione maturata dopo due partite corrispondenti ad altrettante vittorie, nel corso delle quali il tecnico Nisseno ha saputo recuperare ad una situazione che si era fatta estremamente difficile. Nella decisione hanno avuto un peso decisivo la preparazione e la competenza di Sferrazza. Oltre alla novità tecnica è stato nominato direttore generale Vincenzo Cancelleri, che raggiunto telefonicamente ha dichiarato di essere felice per questo nuovo ruolo, dove si impegnerà con tutte le sue competenze per il bene della squadra e cercherà di lavorare ad un futuro solido, mettendo le basi con l'aiuto e l'appoggio dell'imprenditore Luca Giovannone e spera che presto si potrà tornare a giocare al Marco Tomaselli. Per il ruolo di direttore tecnico è stato confermato Antonio Emma. La società dichiara che le scelte effettuate potranno consentire di proseguire il percorso di crescita del suo talizio Nisseno. Sono felicissimo dell'incarico ricevuto e ringrazio la società per la fiducia accordatami. Spero di ripagare al meglio con lo spirito, la voglia e la determinazione che mi ha sempre contraddistinto. Venivamo da un periodo abbastanza negativo, fortunatamente abbiamo fatto dei risultati importanti che ci hanno permesso di risollevarci un po' in classifica. Adesso iniziano le partite quelle più difficili e le partite più dure. A partire da domenica contro l'Enna, una squadra che non ha mai perso, oltretutto sono andato a visionarla domenica Enna Mazzara e mi hanno impressionato. Però come ho detto ai ragazzi noi giocheremo tutte le gare per vincere o provarle a vincere. Poi se l'avversario è più forte stringeremo la mano e faremo i complimenti. Ben trovati, ho un aggiornamento con le previsioni di Trabi Meteo, giornata di venerdì che vedrà momentaneamente l'anticiclone impossessarsi dell'Italia con i massimi oltre Alpe ma interesserà anche le nostre regioni. Nel dettaglio possiamo notare come ci sarà un po' di variabilità in mattinata sulle regioni adriatiche e la Sicilia, bello invece altrove. Nel dettaglio anche la mappa dell'Italia in sintesi con questa giornata relativamente tranquilla parte della variabilità sulle adriatiche e sulla Sicilia ionica. Temperature gradevoli al centro-sud, tocchiamo anche i 22 gradi. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo. Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno, Caltanissetta. Servizio diurno. Al Duomo, via Filippo Paladini. Servizio notturno. Marrocco, via Rosso di San Secondo.